Bene, ci troviamo nella sede dell'associazione Sisio Laribans. Come vedete alle nostre spalle c'è un cavallo, un cavallo che ha vinto diverse gare. Con il presidente Maria Osilia Curcuruto chiediamo appunto come è nata l'idea di questa associazione. Niente, noi siamo un gruppo di ragazzi che condividiamo la stessa passione per i cavalli, per i cavalli arabi. Ognuno di noi andava presso questi show a guardare le gare. Un giorno ci siamo riuniti e abbiamo formato questa associazione. Il nostro obiettivo è quello innanzitutto di divertirci e far divertire tutti gli altri. Infatti abbiamo raggiunto un primo obiettivo che è Mohamed Dali del Falco. L'abbiamo notato in uno show sul campionato italiano. Abbiamo puntato su questo cavallo tanto da portarlo alla Fiera Verona che si è classificata al terzo posto al campionato europeo. Che dire, siamo contenti perché siamo riusciti a realizzare un piccolo sogno di tanti altri. Siamo una bella squadra e condividiamo tutto, tutto quello che ci può fare stare bene. Gli obiettivi sono tantissimi. Certo, bisogna lavorare e realizzeremo tante altre cose a livello anche delle zone ricreative per bambini. Porteremo i nostri cavalli allo show. Infatti sarà quello di Palermo il 2 e il 3 aprile alla favorita, se non ricordo male. Stiamo partendo, che dire, ragazzi, noi siamo contenti, contenti di far parte di questo team. Infatti io un grazie particolare lo devo dare tutta alla mia squadra. Sebastiano, Cinzia, Fabio, Giuseppe che si occupa appunto di allenare questi cavalli. Un fattore importante è quello che insieme all'associazione è nata anche la struttura che in questo momento ospita i cavalli. Sì, infatti ci siamo messi in gioco, ci abbiamo creduto e quindi, come voi potete vedere, siamo riusciti anche a realizzare questo. Certo, di lavoro da fare ce n'è tanto, però bisogna partire. L'unione fa la forza e noi andiamo avanti. L'unione fa la forza e noi andiamo avanti.